Dopo mesi di discussioni e correttivi, il regolamento sul decoro urbano del Centro Storico di Pesaro è stato approvato dal Consiglio Comunale. La prima novità è quella ormai nota, non si potranno più aprire nuove attività di cibo d'asporto sul Cardo e sul Decumano, ovvero su Via Branca, Via Rossini, Via San Francesco, Corso 11 Settembre, Piazza del Popolo e Piazza Lazzarini. Quelle esistenti rimangono e possono andare avanti con le proprie attività. Per le nuove attività che riguardano il codice Ateco, dell'asporto, si intende food, si intende ad esempio la piadineria, la frigitoria, ma nel resto del Centro Storico possono aprire. Vietata anche la nuova apertura di bazar. Le attività esistenti invece dovranno adeguarsi per munirsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata e di adeguarsi alla pulizia dell'area, soprattutto in seguito ad eventi. Altra novità è l'incremento di attenzione verso i portatori di disabilità con adattamento di pedane, sedie e tavoli, come proposto dal Presidente del Consiglio Comunale, Marco Perugini. Ho chiesto alla Giunta quindi di recepire questo mio contributo nell'articolo 7 che qualora autorizzati nel rispetto delle apposite normative e regolamenti comunali, gli arredi esterni come eventuali pedane, sedie e tavoli dovranno permettere alle persone in sedia a rotelle di poter posizionare l'ausilio sotto il tavolo in modo che sia possibile appoggiarsi allo stesso modo e consumare comodamente. A tal fine risultano idonei i tavoli con quattro gambe ad un'altezza utile. Sembrano 4-5 parole molto scontate, pensate che il decoro passa attraverso anche la condivisione di questi piccoli e grandi momenti, che non tutti hanno la possibilità di vivere se non hanno la possibilità di, per esempio, consumare un succo di frutta al tavolo. Grazie a tutti.